Onestamente, la scena italiana, sì, è bigotta. La prima domanda che facciamo sempre è come stai? Allora, diciamo che è un periodo molto intenso perché stiamo lavorando da un anno e mezzo circa a quello che sarà poi un cambiamento artistico, umano e sotto vari punti di vista. Quindi diciamo che è molto stressante, però sto bene. Il rapporto con la musica in generale adesso è, secondo me è passato uno step successivo perché comunque da che facevamo sempre musica in cameretta o eravamo, non so, a fare la trap in una casa, a dormire in otto e fare musica così distinto quasi. Adesso ci troviamo magari in uno studio di un produttore che sa che cos'è la musica, che fa musica da trent'anni, ha fatto i successi della musica italiana. Un esempio Canova, con cui mi trovo molto bene, con cui sto lavorando il nuovo disco, è un approccio totalmente diverso. Cioè io mi sto entrando adesso in questa concezione di fare musica, quindi in uno studio con magari un milione di attrezzatura, un microfono vero. Quindi è tutto nuovo e stimolante. Non mi sento la stessa persona di Polka Uno, non mi sento la stessa persona della Repack di Forever. Sono sempre io, però sicuramente sono maturato, sono cambiato, sono cresciuto. Però sì, sono sempre io. Ho letto un titolo tempo fa, Rosa Chemical, il rapper sia uomo che donna. Che vuol dire, secondo te? Allora, vabbè, quelli sono i grandi titoloni poi strappolati da magari venti minuti di discorso. Allora, io quando ero più piccolo, partendo dal presupposto che ho avuto un sacco di influenze musicali diverse, cioè magari anche la gente mi ha sempre chiesto ma che musica fai? Comunque dentro un mio disco ci sono magari otto generi diversi. Questo perché sono cresciuto con un sacco di influenze musicali, io non ascoltavo solo hip hop, cioè ha fatto parte della mia vita per un periodo, però io ho ascoltato tanto metal, tanto pop, tanto reggaeton. Ultimamente il mio cantante preferito è stato Bad Bunny, cioè per un anno ho ascoltato praticamente solo lui, mentre magari qualche anno fa ascoltavo solo Marilyn Manson, poi per un periodo solo Justin Bieber. Comunque sono veramente un sacco di mischioni. Marilyn Manson, diciamo, nel periodo Tokyo Tell, ok, ha avuto una funzione di... Cioè mi ha fatto scoprire delle cose nuove, perché comunque mi guardavo, mi sono guardato un sacco di interviste, mi sono guardato un sacco di... oltre ad aver ascoltato tanto la sua musica. Allora, in una sua intervista, quando ero morto, ti parlo di un sacco di anni fa, almeno una decina, ho sentito che lui era... cioè non era né uomo né donna, era sia uno che l'altro. È possibile che un giorno si svegliava in un modo, un giorno non si svegliava in un altro. Dici anni fa non era un argomento aperto come ora. E questo discorso qua mi ha fatto... mi ha un attimo aperto. Cioè comunque vedevo questo Bill Cowley, il cantante di Tokyo Tell, lì, tutto ultra femminile, no? E mi piaceva un sacco, e dicevo... cioè, come mai? Cioè cos'è questa cosa? Non capivo, era una figura molto ambigua. E dall'altra parte avevo Marilyn Manson che mi diceva, io mi posso alzare sia uomo che donna. Dipende da come mi sveglio al mattino. Questa cosa mi ha un attimo segnato, mi ha fatto dire... Quindi si può essere anche così. Cioè non bisogna stare per forza in una... in un'etichetta sei così, punto, e quindi ti devi vestire così, punto. No? C'è dell'altro. E quindi ho preso questa... questa cosa un po' come mantra, un po' che faccio quello che mi pare. Come mi sento. Se un giorno mi sento donna, mi vesto in un modo, mi comporto in un certo modo. Se un giorno mi sento in un altro modo, farò di conseguenza. Però diciamo che comunque i miei fan, la gente che mi segue i concerti, la gente un po' più fluida, ok? Cioè Nuovi Gay parla di loro. Parla di me, parla di loro, parla di un nuovo modo di essere. Appunto magari di mettersi lo smalto, di avere dei gusti particolari. Parla... cioè non solo sessuali, gusti... in ogni tipo di argomento. La roba del feticismo è una posa o è vera? Ce la spieghi? Parlare di feticismo è... in Italia è ancora tabù. Nonostante si parli di... che adesso c'è una mentalità aperta e quant'altro. Io noto ancora che dal momento in cui si parla di... fammi dire, di piedi, di perversioni, di latex, di slave, di qualsiasi roba. Io noto che sia ancora un botto considerata come... come cosa strana, ecco. Però ti posso dire... cioè è vero, innanzitutto rispondo alla domanda, è vero. Cioè io sono così veramente. Ho queste passioni, però non lo so. Io ne parlo in maniera normale perché per me è normalità. Che ho fatto scandalo mettendomi lo smalto e parlando di piedi. Cioè mi accorgo che per me è una cosa veramente normale. Ma veramente, cioè come lavarmi i denti. Non è che ci trovo una roba... mettermi lo smalto, mettermi il mascara o che ne so, fammi dire, baciare un piede. La trovo una cosa normalissima come magari dare un bacio in bocca alla persona che amo, non so come dire. E mentre invece mi sono accorto che la reazione del social, dell'Italia, di quando ho fatto certi video, ho parlato di certe cose, è stata tipo, Dio, questo che cosa che non va? Cosa succede? Allora, diciamo che il mio gruppo di amici mi ha anche visto fare certe cose, quindi ormai, so per dire, il mio manager all'inizio non era troppo dentro a questa cosa, mentre adesso, anzi, mi viene anche detto che comunque alcuni insegnamenti, certe cose poi sono anche tornate utili. Quindi diciamo che ormai chi mi sta attorno, compresa mia madre, cioè per farti capire, ormai sono abituati a tutto quello che è il mio linguaggio, i miei gusti, ecco. Un'altra cosa, secondo te la scena musicale italiana è bigotta da questo punto di vista? Onestamente, la scena italiana, sì, è bigotta. Parliamo di urban, io parlo sempre di, anzi, facciamo magari due distinzioni. Magari, sì, nell'urban, nella trap, in quello che è, sì, la scena trap, dai, la scena hip hop, trap, urban, chiamiamola così, anche se ho letto da qualche parte che non si usa più urban, comunque, vabbè, chiamiamola così lo stesso. È molto più bigotta, cioè io la trovo molto bigotta, perché comunque è tutto macismo, tutto far vedere quella mascolinità tossica che comunque funziona ancora. Cioè, l'uomo violento, l'uomo che parla di fighe e basta, l'uomo che si veste in un certo modo, comunque, bah, funziona ancora. Perciò ti dico di sì. Nella scena pop, invece, che è un po' il panorama in cui ci stiamo spostando, in cui poi io voglio, diciamo, finire, è un po' diverso, in realtà, perché c'è molta più apertura, forse anche per la contaminazione televisiva, forse per, fammi dire, non lo so, magari anche un discorso di finto perbenismo, io questo, non lo so, conosco poca gente lì in mezzo, però mi sembra più aperta. Mentre nella trap, nell'hip hop, no, non vedo questa apertura mentale. È apparentemente un paradosso, no, questa cosa, che la cultura mainstream è più, tra virgolette, trasgressiva rispetto alla cultura urban, trap, che dici? Sì, ma vabbè, ci sono un sacco di paradossi anche nella trap, nell'hip hop, cioè comunque è una cultura nata per unire e alla fine si fanno un sacco di discriminazioni razziali, e un sacco di, cioè, è tutto un paradosso. Secondo te ti pensi dai testi? Allora, io penso che i testi non facciano parte di tutto questo, perché comunque la musica è arte, e l'arte è un po', cioè, dovrebbe avere libertà di espressione, quindi uno nei testi può dire un po' quello che è. Io penso che la cosa fondamentale ad oggi, più che il testo, penso che sia un po' quello che succede al di fuori, quindi magari un testo violento, cioè, può anche essere l'espressione di un ragazzo che ha avuto un passato difficile, quindi non penso che questo sia quello che deve, come dire, fomentare il razzismo, l'odio, eccetera. Io penso che invece, però, la scelta di quello che fai al di fuori dei tuoi testi sia la cosa che poi porta i ragazzini a copiarti, cioè, se tu a una serata, ok, prendi uno che ti dà fastidio davanti e gli tiri un pugno in faccia, cioè, tu stai mandando un messaggio, ok? Se tu nelle dirette Instagram fomenti odio facendo vedere coltelli, armi, droga, in un certo modo, e, cioè, ti fai passare come esempio, alla fine il testo, so come dire, Marilyn Manson, per tornare a quello che stavo dicendo prima, parla di certi argomenti, non è che possiamo dire fiorellini e pace nel mondo, cioè, musica che esprime rabbia, dice un sacco di cose, anche astratte quasi. Voglio dire, non è che chi ascolta Marilyn Manson poi va a fare proprio quello che c'è scritto nei testi, io penso invece che sia una cosa poi di quello che fa uno al di fuori, che le persone umane che cantano questi testi e che scrivono queste cose hanno poi, cioè, sono veramente violenti, sono veramente, mandano solo messaggi di odio, sono veramente razzisti. Scusami se parlarne ti fa ammosciare il cazzo e la scena ti sta sui coglioni, come hai scritto più volte, ma devo per forza chiederti perché fai rap o almeno perché lo hai fatto? E perché non diventare un Mengoni? Allora, questo argomento mi piace molto, allora, volevo parlarne di Mengoni. Perché quando ho fatto Polka 2, appunto, come dicevo all'inizio, era due anni fa, tre anni fa, ero più piccolo e avevo diversi, avevo dei gusti diversi rispetto a quelli che ho oggi, musicalmente parlando. Non mi piaceva la musica pop plasticosa, fammi dire, quindi io non è che ce l'avevo con Mengoni in Polka 2. Ho preso lui perché mi rappresentava un po' quello che non mi piaceva nella musica pop. Ad oggi ti posso dire, in realtà, che l'ho anche scritto più volte su Instagram, non mi caga giustamente, per dirgli invece che tipo alcuni suoi ultimi pezzi mi sono piaciuti molto e che ho detto una cazzata, diciamo. Quindi ci hai ripensato? Ci ho ripensato su Marco Mengoni, sulla musica pop plasticosa no, però su Marco Mengoni ci ho ripensato. Comunque sono uno stupido e non cambia mai idea, cioè mi sono messo in discussione. Ti chiedo, cosa stai ascoltando in questo periodo? Allora, in questo periodo sono un po' tornato alle origini, quindi sono nel periodo A Day To Remember, Bring Me The Horizon, mi sto ascoltando un po' di Off My Semen, di Metalcore, un po' i grandi classici, Linkin Park, Green Day. Diciamo che è un calderone, non sono proprio quella persona che si ascolta un genere bassa. Sto ascoltando tanto Justin Bieber, come lui sempre, non l'ho mai smesso. Pochissima trap, infatti è anche forse un motivo per cui sto cambiando, perché non mi piace più la trap, l'hip hop. Ecco, ultimamente mi sto riascoltando un po' di hip hop proprio, vecchia scuola, un po' di Method Man e Red Man, un po' di Butang, un po' di Mob Deep, un ritorno alle origini. Domanda personalissima, come andavi a scuola? Davvero hai fatto soltanto fino alla terza media? Allora, come andavo a scuola? Andavo in macchina, andavo a piedi, sono andato in un sacco di modi, però andavo fino alla seconda media relativamente bene, cioè comunque bene, non normale, non ero il secchione, non ero quello che non faceva nulla, comunque sono sempre stato uno abbastanza ansioso, quindi prima delle verifiche comunque dovevo una minima studiare. Poi dalla terza media un po' meno, e poi sì, comunque io effettivamente ho la terza media e basta, perché ho fatto fino alla terza superiore, ma non ho preso neanche la qualifica, perché l'esame non l'ho dato, e perciò sì, ho la terza. E le superiori le ho fatte abbastanza male, perché comunque avevo un totale disinteresse per tutto ciò che non fosse poi quello per cui stavo studiando, quindi la grafica e il design, diciamo che dell'italiano, della matematica, di tutto il resto non mi interessava nulla. E perciò non studiavo, non facevo niente, dormivo in classe, è sbagliato però. Perché avevi altre passioni, diciamo. Sì, beh, venivo sempre ripreso perché comunque in classe dormivo e quando non dormivo disegnavo. Comunque nasco come un'altra cosa, nasco come writer, come artista, facevo tele, facevo quadri, facevo altro. Beh, sì, diciamo che il writing è un po' quello che mi ha portato ad essere quello che sono io, perché comunque avevo una vita un po' chiusa in determinati argomenti. Cioè io andavo a scuola quando ci andavo, il resto del tempo stavo a casa, a serrande chiuse, un po' sballarmi, a disegnare. Cioè era un po' di perdizione nella mia adolescenza. Ho iniziato molto presto con tutto quello che era poi il mondo della droga, delle feste. Quindi mi viene da dire che mi ha salvato un po' la vita. Cioè effettivamente l'incontro con delle persone con cui sono tuttora in buonissimi rapporti mi ha un po' salvato. E cos'è quel discorso della musica? Mi ha salvato la vita. Cioè comunque era un periodo molto brutto per me, in cui mi sentivo tipo, mi sentivo male con me stesso, odiavo tutti, odiavo me stesso. Non mi piacevano i posti aperti, non mi piaceva la luce. Io vivevo di notte infatti. Tenevo il mio manager, che è comunque un mio amico di vecchia data. E lui ha vissuto con me tutto quel periodo lì. Lui veniva dopo magari tre settimane che tenevo le finestre chiuse, le tapparelle giù e fumavo per dire, veniva ad aprire, mi diceva prima di arrivare tipo, apri che se no arrivo col mal di gola. Cioè veramente era così, si svegliava al mattino che dormiva da me col mal di gola, per quanto quanta cappa c'era, quanto era tutto buio. Comunque avevo un problema. E il writing comunque mi ha salvato la vita, perché ho conosciuto queste persone che mi hanno inserito nella loro cerchia. Io da solo non ero abituato ad avere una cerchia di amici, quelli che avevo li ero allontanati. E mi hanno messo in questa cerchia di persone che mi hanno poi stimolato un sacco, mi hanno portato a dire, ok, esiste dell'altro oltre che sballarsi, starsene in casa da soli, a pensare che tutto fa schifo. Mia mamma è anche stata un grande aiuto in tutto questo. Infatti volevo chiederti, tu ho in tutto questo, cioè quando tu a 13 anni stavi al buio e ti facevi solo le canne, come reagivano? Allora, diciamo che ho provato in tutti i modi a farmi capire che era la strada sbagliata, ok? Non è che sono state poi le canne, è il problema vero. Cioè è stato un po' tutto quello che poi è stata la conseguenza un po' di tutte le compagnie che ho frequentato, del fatto che da solo, sì, puoi fumarti le canne, poi cercavo sempre dell'altro, cercavo sempre qualcosa di più, no? Però lei, ecco, la cosa buona che ha fatto, io la stimo molto tra l'altro, io ho una grandissima stima di lei, è stato non giudicarmi mai, cioè non mi ha mai giudicato, non mi ha mai rotto i coglioni, non mi ha mai detto tipo, o così, oppure succede questo, capito? Come magari succede in altre famiglie dove magari il ragazzino, il giovane ha un problema. Mi è sempre stata vicina senza giudicarmi, e questo mi ha sicuramente aiutato anche a riflettere, a dire, ok, minchia, ho mia mamma che mi aiuta. Io non vivevo con mio padre, mio padre vive al di fuori, fuori dall'Italia. Ero con mia madre. In questa casa, stavo lì, sempre al buio, tutto tossico, tutto chiuso. Una madre che alla fine pensavo, mi vuole bene, mi aiuto, mi sta vicino. Ho degli amici che io non vedo perché penso che odio tutti, che tutti mi odiano, ma in realtà ci sono e si fanno vivi con me, capito? Cioè tutte queste cose mi hanno fatto dire. Poi ho scoperto i graffiti, ho detto, magari c'è dell'altro, magari mi inizio a smettere, mi inizio a quittare, magari succede qualcosa di buono. Ho scoperto, vabbè, legge dell'attrazione, fisica quantistica, sono andato a vedermi Igor Sibaldi al vivo per la prima volta, e ho detto, ok, c'è veramente dell'altro, magari sono io il problema, magari sono io che vedo tutto nero quando fuori a colori, magari se provo a vedere a colori anch'io, fa tutto schifo. Ed è così è stato. I graffiti mi hanno portato poi dopo un po' di anni a ridurre e smettere a 19 anni, così con tutto quello che era droga e persone negative. E da lì poi ho scoperto la musica e ho iniziato a dire veramente se lotto per quello che voglio, ottengo tutto. Cioè tutto quello che vuoi veramente, per cui dedichi la vita, ce l'hai. Cioè tutto quel discorso di motivazione a seguire il suo Instagram che ti arrivano, cioè tolto il discorso marchettato, cioè in realtà è vero, funziona veramente. No, io invece avevo proprio bisogno di quella cosa lì. Cioè dopo che mi ero chiuso in me stesso per così tanti anni, avevo proprio bisogno di esternare quello che avevo dentro, non solo su un muro, ma magari cantando e dicendo la mia. Sentivo che avevo qualcosa da dire comunque. E a proposito di performance, il tuo primo concerto com'è stato? Quando quei graffiti mi sono rotto, ok, ho detto forse voglio fare il cantante, sono andato a vivere a Londra, ok, per fare, per prendere ispirazione, per capire un po' cosa vuol dire vivere da solo, fare musica, mettermi in un contesto artistico, che comunque rispetto a Torino dove vivevo, anzi da Alpignano dove stavo io, era un po' diverso, Londra, Alpignano, diciamo due poli opposti. Da lì ho deciso di fare veramente musica e di mettermi in una cosa, cioè io non ascoltando troppo la musica trap, l'ascoltavo ma non era proprio, non ero ossessionato, ho detto faccio trap, in modo che non ho regole, non ho limitazioni, non ho una roba che devo fare così. Ho fatto il mio primo EP, ok, ok, e l'ho pubblicato da indipendente mentre stavo a Londra e ho visto che effettivamente nel mio piccolo le cose stavano andando bene, comunque avevo un sacco di riscontro, la gente diceva ma questo qua che cazzo è? Cioè comunque all'inizio era ancora forse più estremo con i look, avevo forse un po' meno tattoo, però comunque a livello di estetica era un po' più estremo. La cosa ho visto che andava, alla gente piaceva, a me piaceva quello che facevo, era in occasione del mio compleanno deciso di organizzare un live, quindi di da Londra organizzare una cosa con tutti i miei amici che erano ai tempi, c'erano Taxi, c'erano Ricky Squaw, cioè la prima scena a SunCloud, c'erano chi è venuto? Nevro, adesso non ricordo con la precisione tutti, comunque sono venuti un sacco di miei amici anche di zona che mi hanno aiutato i videomaker, eccetera, e ho organizzato questo concerto io in una discoteca, ho affittato il piano sopra, marcissima comunque, cioè una situazione veramente bella però, cioè la ricordo benissimo. C'erano tutti i miei amici, tutti questi cantanti, ho organizzato questo palco piccolissimo, e ho fatto il mio primo live davanti a tutti i miei amici, c'era anche mia mamma, c'erano questi cantanti che comunque ai tempi erano veramente qualcosa di figo nella scena emergente, no? E lì ho fatto il mio primo concerto. Ricordo che abbiamo schiantato tipo l'impianto alla fine, perché non so, si è esploso, è successo qualcosa, e stavo cantando una canzone, mi hanno preso tutti in braccio, cioè io non ho mai fatto niente di tutto questo, mi hanno preso in braccio, e hanno cantato senza cassa, senza playback, senza niente, tutti quanti la canzone, che comunque ho 10.000 visualizzazioni, forse, è stata una roba incredibile, cioè lì ho detto, ok, possiamo veramente far succedere qualcosa, se è con una canzone con 10.000 visualizzazioni, forse succede questo, pensa se veramente le cose vanno bene, ero innamorato di questa sensazione. Si può dire che il live di Love Me sia stato il punto più alto della tua carriera? Non tanto per il palco, quanto per l'accoglienza del pubblico? Beh, allora, effettivamente, il Love Me è stato una cosa che mi ha toccato, a livello di emozioni ho provato delle cose mai provate prima, cioè il fatto, i dieci minuti prima di salire, che mi stavo in un attacco di panico, con la tutina stretta, mi sono dovuto aprire tutto, ho rovinato il look perché dovevo stare aperto, che non riuscivo a respirare, il fatto di salire sul palco dopo un anno e mezzo che non pubblicavo musica, ho pubblicato solo Polcatrè, e comunque non è che c'era così tanto movimento artistico da parte mia e il fatto di salire sul palco, vedere tutta quella gente, darmi quel calore, cantare tutte le canzoni a memoria, è stato assurdo, cioè io non me l'aspettavo. Perché non te l'aspettavo? Beh, perché comunque dal momento in cui la scena italiana ha una specie di regola che devi uscire una volta al mese se non sei già quello arrivato, perché sennò scompari un anno e mezzo di silenzio. Una canzone, cioè Polcatrè, che comunque è un sequel, non è una cosa nuova, ok? Non è una nuova... Cioè, diciamo che non mi aspettavo tutto questo calore, pensavo di essere un po' più nel... cioè, in quel nero, in quell'ombra, no? Di essere magari sì l'artista che va, però non lo so, non mi aspettavo. Invece è stata una grande dimostrazione di amore. Qual è il pezzo? Se c'è, qual è il pezzo a cui si è più legato? Vabbè, ce n'è due in realtà. Allora, a livello di emozioni, secondo me è bohème, perché descrive una storia che ho avuto con una persona che chiaramente lei non sa, non saprà mai, è dedicata a una persona. E poi perché è stato il pezzo che mi ha fatto conoscere con il mio produttore, con cui ho fatto il disco Forever, con cui ho fatto Forever and Ever, che è B-Dop. Fondamentalmente mi scriveva su Instagram questa figura che mi mandava beat a stecca. A me facevano tutti cagare. e quindi non gli rispondevo. Cioè, gli dicevo pure no, non mi piace, così. Lo trattavo molto con superficialità. Poi un giorno, per beccarmi, ha organizzato un live. Lui. Lui non era ancora un produttore affermato nella musica. Aveva fatto qualcosa, però non era ancora un produttore affermato. Ha organizzato sto live a Pistoia, nella sua città natale. e mi ha fatto trovare ragazze. Se volevo, droghi, poi non mi drogavo già più, però c'era insomma un live fighissimo, un appartamento, una festa, potevo chiedere quello che volevo, me lo dava, capito? Mi aveva trattato un attimo per la prima volta. Io venivo dai live, quelli con... nella bettola, cagato, con 30 persone, così mi aveva organizzato sta roba super... cioè da persona importante, capito? Mi ha fatto veramente sentire una persona importante, tanto che... poi abbiamo avuto modo di parlare, di stare un po' anche da soli, e lui mi diceva bro, io ti devo assolutamente produrre, io penso che sei una persona incredibile, hai del talento che non ha nessuno, hai qualcosa che non ha nessuno, e... perciò è stato figo. Io però odiavo i suoi b... cioè non è che li odiavo, però mi facevano cagare quelli che mi aveva mandato, no? Lui mi fa però io ho studiato conservatorio, so fare tutto, se mi dice una roba, cioè io suono, faccio tutto come dici te, mi faccio sentire un po' di singoli nuovi, mi fa bro, assolutamente, facciamo, io gli dico, io devo uscire con questo, tra un po', cioè c'ho questa canzone qua che devo assolutamente riprodurre, e... se vuoi proviamo questo. Lui in questa casa, prende, porta un computer, delle casse, una tastiera, ed è nata Bohème quella sera lì. Tra i vari commenti che ti hanno fatto i tuoi fan, ce n'è uno che ti ha colpito più nel profondo? Quella... sempre per Noisy, quando ho fatto il People Versus, avevo risposto a un commento incredibile sul fatto che io fossi una spia russa, tipo una roba... quello mi era piaciuto molto. Comunque no, allora, diciamo che... il commento generale che più mi... che più apprezzo è quando la gente non mi ferma per polka, o non mi ferma per... per dirmi, spachi zio, bella, la foto, ma non so, magari... uno mi ha colpito in particolare è stato quello... è stato un su... ero... porco due, non mi ricordo dove cazzo ero. Forse ero al Pam dietro casa, o al Penny, non mi ricordo. mi ferma sto cinquantenne che mi fa... io ti seguo da una vita, cioè... sei veramente fresco, mandi un messaggio diverso, hai un look così, i testi delle tue canzoni sono veramente un'opera d'arte. Cioè mi ha iniziato a descrivere un po' quello che veramente vorrei che la gente percepisse di me. Un signore di cinquant'anni. Voglio dire che è cresciuto con della... cioè sicuramente non è cresciuto con la trap, capito? Minchia, dico, ci arriva un signore di cinquant'anni e non ci arrivano i ragazzini che comunque... cioè dietro a certe parole, dietro a certe melodie, c'è poi un messaggio, no? E quindi mi ha fatto molto piacere. Poi arriva il ragazzino a dirmi queste cose qua, però detto che ero un cinquantenne mi ha fatto dire ok, cioè... wow. E invece nel 2050 dove ti immagini? Questa è la mia... Allora... Dove mi piacerebbe essere in una casa... Vabbè, voglio più proprietà. Diciamo che la casa dove vivo è in Doven, perché io sono innamorato dell'Olanda, mi piace un sacco l'Olanda, mi piace un sacco le vibrazioni che mi lascia a quel posto, mi piace la gente, mi piace la tranquillità. Quindi mi vedi un bell'attico in Doven, pittore. Comunque trensetter, cioè non il pittore vecchio, quello chiuso, cioè basta quel periodo lì di stare chiuso a sociale, no? Pittore, arte contemporanea, gallerie, comunque è un caos adesso, caos, scritto KWS. Cioè lui adesso è un artista, però fa moda, fa design, fa sculture, fa un sacco di... Cioè adesso l'arte non è più solo fare un quadro e basta. Adesso l'arte tu canti, ma intanto fai anche il modello, fai anche l'opinionista, fammi dire. No? No?